Avvocato, la Corte Europea per i diritti dell'uomo ha ritenuto ammissibile il ricorso per l'iscrizione all'anagrafe di un figlio nato da coppia omogenitoriale in Spagna con l'inseminazione artificiale e dopo tre gradi di giudizio la sua battaglia va avanti. Sì, in effetti ci sono state molte pronunce in Italia in senso negativo e ne ho subita anche io una per due donne della provincia di Belluno che avevano avuto l'inseminazione artificiale in Spagna e che poi hanno chiesto la trascrizione della nascita del bambino nel certificato di uno dei comuni della provincia di Belluno. Ho ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e in tempi molto stretti la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso. Questo conferma che c'è grande attenzione in Europa per la materia e che la posizione dell'Italia è disancorata rispetto a quella di tutti gli altri paesi occidentali dove c'è già una legislazione. In effetti in Italia questa legislazione non esiste nonostante il monito della Corte Costituzionale che per ben due volte ha chiesto al Parlamento di legiferare in materia. Questa è una materia molto sentita a livello europeo. Il Parlamento italiano che è assolutamente sordo rispetto alle richieste che provengono da molte parti e peraltro è strano che ci sia questo assoluto silenzio su questa materia dopo che il Parlamento ha rinteso disciplinare il matrimonio tra le coppie omogenitoriali e così via. Quindi ha privilegiato la posizione degli adulti rispetto alla posizione dei minori che sono i soggetti deboli e quindi avrebbero dovuto essere tutelati maggiormente prima che non gli sono i soggetti più dolci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.